Allora, Enel siete stati tirati in ballo prima come esempio virtuoso nel vostro bilancio di sostenibilità, avete fatto un impatto, avete creato, misurato l'impatto sociale che avete complessivo in termini di B Corp. Quindi magari in un futuro potrete essere una Benefit Corporation, chi lo sa, o forse già lo siete perché in effetti condividete del valore con tutta la vostra catena di fornitori e di clienti. Quindi state facendo molto su questo, lei non lo vuole dire, quindi lo dico io, che siete nel Global Compact da anni e siete addirittura nell'Executive Board. Quindi da anni state lavorando su questi temi e che sono evidentemente per voi importanti e sono una leva di sviluppo centrale, poi con l'amministratore delegato che avete che nasce dalle rinnovabili, questo è diventato immagino sempre più strategia centrale dell'azienda. Come interpretate questo ruolo e poi faremo un secondo giro per tutti su cosa possiamo fare per tirare a bordo altre aziende, altri nostri partner e i nostri stakeholder. Grazie, buongiorno a tutti. Io l'avrei detto sicuramente fra le prime cose che noi siamo tra quelli che ci hanno creduto prima nel Global Compact e ovviamente l'ingegnere Starace è uno dei grandi trascinatori internazionali di questa nuova filosofia di business. Sono stato chiamato effettivamente in causa varie volte e quindi devo ringraziare quelli che mi hanno preceduto. C'è un tema del panel precedente che è quello della finanza. Noi abbiamo, come ha detto il collega, sicuramente messo nel bilancio di sostenibilità la misurabilità di questi effetti. Ma la cosa che più mi interessa e mi piace sottolineare qui a Milano oggi nella piazza finanziaria è che noi stiamo facendo un lavoro certosino di attrazione dei capitali, dei fondi etici e SRAI ovviamente, che sta aumentando di anno dopo anno. Negli ultimi quattro anni è raddoppiata la presenza del nostro capitale. Tra il 2016 e il 2015, lo abbiamo registrato in assemblea poche settimane fa, siamo arrivati all'8% ma attraverso anche un aumento di capitale, quindi in termini di numerosità di azioni detenute da questi fondi siamo cresciuti in un anno solo del 13% e non a caso anche il titolo cresce molto. Quindi avere al centro della nostra strategia sostenibilità e innovazione insieme, anche questa è una cosa molto importante, non ci può essere l'una senza l'altra, perché per essere sostenibili e cambiare un po' il business bisogna anche innovare. Questa cosa fa bene agli azionisti, non fa bene solamente allo sviluppo, alla crescita, alla società, cioè non è un fine, fatemi dire, fra virgolette di carattere social filantropico, è un fine di business che fa bene e che oggi mi sento particolarmente contento di condividere questa giornata con il professor Giovannini perché da ancora virgolette pochi eletti, grandi imprese, noi siamo gli unici tre italiani nelle 50 aziende che possono cambiare il mondo, siamo l'unica utility al mondo che si è posta a questi problemi, abbiamo il piacere e l'onore di condividere la giornata in cui vengono coinvolte le piccole e medie imprese, le altre associazioni di categoria, le banche, i commercianti e quant'altro. Perché l'unica vera grande discontinuità, l'unico grande cambio di passo che questo settore può fare ma che può fare tutto il paese è quello del coinvolgimento di quello che è poi la lossatura, la struttura portante del sistema industriale e commerciale del nostro paese che sono le piccole e medie imprese. Quindi noi che abbiamo cominciato per primi, insieme a qualcun altro, ovviamente non posso dire che siamo soli ma abbiamo il dovere morale, l'obbligo, l'impegno di dover essere, di voler essere l'esempio e il traino per tutti gli altri. Lo stiamo facendo in mille modi, la più semplice, la più ovvia è quella che è stata anche essa citata più volte nel panel precedente come la BMW abbiamo un protocollo per cui i nostri supplier, i nostri appaltatori nella qualificazione e poi nella partecipazione alle gare devono adeguarsi a quelli che sono i nostri sistemi di sostenibilità in senso generale. Dall'altra parte un altro punto fondamentale è che noi nel mondo abbiamo oltre 60 milioni di clienti quindi non produciamo l'energia per venderla all'ingrosso ma produciamo l'energia e i servizi energetici di efficientamento per la casa, per la pubblica amministrazione, per le imprese piccole e medie grandi per poterla poi dopo collocare a questi 60 milioni di clienti che peraltro abbiamo anche l'ambizione di far crescere molto nei prossimi anni quindi non possiamo certo pensare di essere visti e percepiti come quelli delle bollette e basta mi sembra abbastanza ovvio e non vogliamo che questa poi invece sia solamente una politica di marketing ci deve essere sostanza nel rapporto anche con il cliente finale. Questi sono gli aspetti fondamentali che mi piace sottolineare nella giornata di oggi. E poi avete investito da sempre nelle rinnovabili e adesso avete anche un grande risultato all'estero che nasce dal geotermico della Toscana e quindi da sempre siete su questi fronti della sostenibilità ambientale. Assolutamente. Ormai le rinnovabili per noi sono diventate talmente tanto normali e non più un'eccezione che sono assolutamente centrali nel nostro mondo. Non ci viene neanche più da citarle come un'eccezione. È totalmente embedded. Siamo stati anche grandi fautori della fusione tra asso rinnovabili e asso elettrica proprio perché tutto il mondo delle associazioni e delle imprese deve guardare ad un un unico obiettivo di sostenibilità. L'obiettivo che noi abbiamo di essere completamente carbon free nel 2050 sia come produzione che anche come comportamenti è un altro aspetto. L'integrazione che stiamo facendo sempre di più di Enel Green Power che prima era quotata sul mercato e che poi dopo è stata deristata lo scorso anno è proprio per dimostrare che noi vogliamo essere verdi completamente. E se posso anche il bilancio di sostenibilità che oggi viene fatto ed è stato molto apprezzato e molto dettagliato misura tutta una serie di comportamenti e di risultati. Secondo me un domani non ci dovrà più essere perché tutto il bilancio dovrà essere un bilancio di sostenibilità. Cioè quasi non dovremo più percepire la differenza tra il bilancio civilistico e quello di sostenibilità. E' un po' mi viene in mente la battuta di Galletti che dice preferisco quasi chiudere il Ministero dell'Ambiente perché tutto il governo sarà ambientalista. Ecco tutta l'Enel sente già questo grande bisogno di essere completamente sostenibile. E come sapete abbiamo delle divisioni globali mondiali a livello alto di prima linea dell'ingegner Starace che si occupano di sostenibilità e di innovazione. Questo l'abbiamo fatto già da tre anni quindi lo sentiamo veramente. Bene quindi il mercato ve l'ha riconosciuto i fondi sono saliti fino all'8% con forte afflusso di fondi appunto da socially responsible investing e questo è un percorso che è stato premiato anche a livello finanziario. Grazie.